oh ma quanti siete oh c'è anche il mio ciao stammattina ricchi nicoletti è uscito per la consueta passeggiata mattutina con il suo cane gabriella ma questa volta hanno fatto una tappa particolare e rinfrescante durante il percorso hanno scoperto una piccola spiaggia e gabriella non ha esitato a tuffarsi nell'acqua si è rivelata un'esperta nuotatrice dimostrando quanto sia importante rinfrescare i cani nelle giornate calde le zone apposite per il bagno dei cani sono fondamentali per il loro benessere sotto il sole coccente ricchi appena visto la spiaggia ha colto l'occasione per far fare un bel bagno a gabriella assicurandosi che la sua amica a quattro zampe potesse godere di un meritato refrigerio assicurandosi che la sua amica a quattro zampe potesse godere di un'acqua insieme a perciaggia